La Pistonesi ha aggiunto un alto tassello al mosaico del suo organico, prelevando in prestito dal Cesena il trequartista Federico Barano, classe 1995. Barano è di scuola Atalanta, con la quale ha disputato anche il torneo internazionale giovanile di Via Reggio. Ha fatto parte anche della nazionale Under 19 Azzurra. Io ho calciato per i miei passi sui campi con la maglia dell'Atalanta, ho stato lì fino in primavera, poi ho fatto il prestito a Venezia, poi a giugno mi ha acquistato il Cesena, ho fatto la prima parte a Cesena e poi a gennaio ho fatto la restante parte dell'anno ad Arezzo. Io sono nato trequartista, poi negli anni si è un po' abbandonato questo ruolo e quindi sono stato spostato sull'esterno, esterno ad attacco, sinistra, destra, indifferente. Prediligo ovviamente giocare sull'esterno a destra, così rientro con il mancino. L'anno scorso ho fatto tutto l'anno da mezzala, quindi ho imparato un altro ruolo e quindi sono abbastanza duttile su questo punto di vista. Io sono venuto qua a Pistoia perché comunque ho avuto una buona impressione da parte del mister che mi ha chiamato e mi ha voluto tramite il mio procuratore. Poi gioca un calcio molto propositivo, l'ho seguito l'anno scorso a Carrara, gioca il 4-3-3, quindi è un modulo che a me è più consono. Sono venuto qua per giocare, per dare una mano alla Pistoiese, per cercare di fare un ottimo campionato, rimanendo ovviamente obiettivo alla salvezza.